Due anni fa i giornalisti freelance si ribellavano agli editori e al sindacato FNSI che avevano chiuso quell'accordo del 19 giugno 2014 sull'ecocompenso, accordo che è stato rigettato dagli organi giudiziari ma su cui poi il governo in realtà aveva avvallato senza accorgersi delle gravi inadempienze e dei gravi vizi che poi facevano rigettare questo accordo dagli organi giudiziari. Il tariffario minimo per un collaboratore era ridicolo, 20 euro per un articolo su un quotidiano, 6 euro per una segnalazione ad agenzia e web eventualmente integrata di un paio di euro se con foto e video. Qualcosa in più su periodici e tv locali. Questo è ciò che i editori e il sindacato dei giornalisti avevano stabilito come equocompenso per corbonisti a collaborazione coordinata e continuativa. Ora che questa delibera non esiste più speriamo che venga fatto un intervento al rialzo naturalmente a tutela dei giornalisti collaboratori e non in realtà una delibera peggiorativa. La legge parlava chiaro di un equocompenso con remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Invece con quella delibera, e speriamo che non venga perseguita la stessa strada, si era creato un doppio canale, gli insider iperprotettivi e gli outsider con scassissime garanzie. Per questo l'Italia la vediamo posizionata sempre più in basso nella classifica della libertà di stampa che crolla al settantesimo posto nella classifica internazionale perdendo quattro posizioni sotto il governo Renzi. Il diretto costituzionale della libera informazione non viene garantito dal finanziamento pubblico ai giornali al nostro avviso, che poi rischiano di diventare megafono dei partiti, dei governi e dei potentati economici. La libertà di informazione va garantita evitando che i giornalisti siano ricattabili in quanto sottopagati prima di tutto dal proprio editore. A queste condizioni non è possibile informare con la dovuta cura, rispettando la deontologia professionale, andando oltre semplice copia e incolla di un comunicato stampa e verificando rigorosamente le notizie e i temi che vengono riportati sui giornali. Avete dato in questi anni un miliardo e mezzo ai giornali di finanziamento diretto e con i finanziamenti indiretti le cifre potrebbero essere addirittura superiori. L'obbligo di pubblicazione dei bandi di cara delle pubbliche amministrazioni sui quotidiani nazionali e locali è un esempio anacronistico. Dite che volete eliminare questo obbligo ormai da due anni, da quando si è inserato il governo Renzi, ma in realtà è un giochetto che fate perché ogni volta che c'è la possibilità di prorogare questo divieto fate un'ulteriore proroga e quindi è una norma che non verrà mai applicata. Sono passati già due anni e rimane lì. Il vostro governo continua a mantenere in piedi una norma che tra l'altro fa pagare ad altre imprese che vincono appunto negli appalti della pubblica amministrazione i costi delle imprese giornalistiche. Quindi è un controsenso incredibile quando ormai esistono già servizi informativi online. Dare quindi i soldi a giornali non è la soluzione. Bisogna proteggere i giornalisti invece con un adeguato piano salareale, sul piano della difesa personale visto le intimidazioni che subiscono dal mondo criminale. Di questo non c'è traccia nel vostro operato perché voi a nostro avviso non volete difendere le informazioni. Il vostro interesse è di avere testate asservite che non devono riscuotere successo tra i cittadini, ma avere la benevolenza del governo per ricevere fondi che arrivano a sostenere addirittura metà del costo del giornale. Vi chiediamo quindi di cambiare strada e garantire un'informazione libera e non ricattabile dai poteri politici, governativi, economici e finanziari. Una politica dell'informazione che sostiene il lavoro dei giornalisti che rispettano la propria deontologia professionale e non le testate giornalistiche. Ma mi sa che per cambiare strada bisogna...